T'è stato aderito Epic Games Bordelands 3 Ti devo salvare o ti mollo? Vado a casa di ognuno Gli tiro 4 puni in testa Che non vanno sotto la cima Nooo Che dire Incredibile Su Epic c'è Bordelands 3 a 5 euro Sono in copia sti due stronzi Voilà Ah vabbè Poca Coda Idioti 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 Non ce la v***a